Edizione è una sezione un po' particolare, probabilmente alcuni di voi hanno già avuto modo di cogliere che in una edizione così diversa, necessariamente anche solo per ragioni di ingressi, di prenotazioni e di distanze di vario tipo, gli scrittori stranieri non potevano essere, gli scrittori internazionali non potevano essere a Salerno, quantomeno non potevano programmare un viaggio nel momento in cui abbiamo immaginato il festival, con tutto il fatto che è slittato di un mese, tutto quello che potete immaginare. Però l'occasione non l'hanno comunque rifiutata di essere con noi, sono stati fin qua insieme a noi David Quammen, Kathleen Shine, Escol Nevo, narratori internazionali alla finestra, così abbiamo intitolato Lo spazio e l'abbiamo intitolato da lontano perché appunto tra poco alle mie spalle apparirà il volto di un grande scrittore americano, David Levitt, che è davvero una delle grandi firme della letteratura americana contemporanea. E poi nel secondo blocco un altro premio Goncourt, visto che sul palco c'è stato un attimo fare Gilles Joffre, sarà invece Pierre Lemaitre a parlare del suo nuovo romanzo. È chiaramente una conversazione da lontano e quindi c'è bisogno naturalmente che ci aiuti un grande esperto intanto di letteratura appassionato e poi una voce riconoscibile anche per chi in questi anni ha seguito Salerno Letteratura. Quindi il primo applauso lo farei a Seba Pezzani che eroicamente ci sta aiutando in queste sere. Allora abbiamo David, lo vedo già collegato con noi, facciamo un applauso a lui giustamente, anzi glielo facciamo sentire che c'è il pubblico di Salerno Letteratura. David sei abituato in queste ultime occasioni a parlare con un computer e con una persona. In questo caso parli con un computer, ma parli con diverse decine di persone qui davanti, a me in carne e ossa. Fatevi di nuovo sentire così arriva più forte l'applauso di Salerno. Grazie. Ci sono, ci sono, vedi anche Teresa che forse conosci, ecco e poi nel buio, nel crepuscolo molte persone che sono venute ad ascoltarti. Parliamo di Il Decoro che è l'ultimo romanzo di David Levitt ed è un romanzo che racconta l'America contemporanea. Se dovessimo dare un titolo a questo incontro, in realtà nei fatti, sto scherzando perché l'abbiamo dato questo incontro, è domande dal presente, domande dal passato. Domande dal presente perché come mi è capitato proprio di recente di chiedere a David Levitt, l'azzardo di questo romanzo è cogliere il presente, la trasformazione del presente, il sentimento del presente. E ci mette di fronte una coppia di persone che potremmo collocare nella sinistra lib, liberale, due persone che hanno molti strumenti culturali e anche certi strumenti sociali, diciamo così, appartengono se ancora si può parlare di classe, a una classe benestante. che la notte che tutti ricorderete del novembre di qualche anno fa, esattamente quattro a questo punto in cui fu eletto Donald Trump, ebbero una sorta di shock da cui non so se si sono ripresi. Ecco, forse questa, David, potrebbe essere la prima domanda. I tuoi personaggi, Bruce e Eva, si sono, secondo te, adesso, se dovessimo leggerli oltre il tuo romanzo, si sono ripresi dallo shock? Well, per cominciare, voglio dire che sono molto contento di essere con voi. Peccato che non sono veramente in Salerno, però, va bene, sono qua virtualmente, questo è meglio che non essere qua. In answer, I'm going to move into English. So, you were asking about Bruce and Eva, who are the protagonists of my novel, or the two of the protagonists of my novel, or a wealthy New York liberal couple, who respond to the election of Trump with utter horror. And I think that that is a reflection of how most of us on the left, or even in the Democratic Party, since those are not necessarily the same thing, felt when this election occurred. It was like something out of a dream. It didn't seem real. I remember, I kept saying to myself, this can't be happening. And it took me a long time after the election to figure out how to tell that story, and through what kind of characters to tell it. And the decision that I came to, and the decision that I came to was that it had to be a comedy, that the only way to write about a situation this tragic and this disastrous was through comedy. And so the novel really aspires to be, at the same time, a kind of old fashioned, what we call a comedy of manners, like something you might find in a play by Noel Coward or by Goldoni. But that has, as a subject, a vast political crisis. And I wanted to look at the ways in which that crisis did and did not, does and does not, affect the lives of people like Eva and Bruce, who are ostensibly protected by their wealth and their status. But Eva doubts that. And that is, it's her doubt that really starts the novel moving. I hope that answered your question. It's a question that, as I said, is that it's a very important thing to do with the election of Donald Trump, in the way in which many other people react, with a strong shock, with an absolute terror. As I said, many other people who thought they were in a way of being left, or in a way of being left, or in a way of being left, or in a way of being left, and this necessarily doesn't mean that they were left if they were left, if they were left, I remember the feeling that they were left. I was left when I received the news of Donald Trump. That night, it seemed impossible, real, absolutely out of every imagination. I continued to say that it was impossible, it was not possible, it was not possible, it was not possible. And yet, it was just that kind of reaction that took the idea of the idea of my romance. I was thinking about how to tell the sentiment, the feeling, and especially through what type of person do it, how to do it, how to do it, how to do it. I had a lot of time, I wanted to reflect on this thing, and to get to the consciousness that, how to do it, how to do it, how to do it, how to do it, how to do it. And it's quite sad to think about it because it was a tragic, tragic, disastrous, and even often, the tragic and tragic story story is told in the best way, through the tone of the comedy. If we want, the romance aspires in a way to porses into the scia of the art art, for example, that of Goldone, the drama of Goldone. It's a type of drama of old stamp. Obviously, the argument, but it's not only the comedy, because, as I said, there is something very strong, very strong, very strong, and therefore there is a political issue, which is the crisis. The crisis is, like a crisis of the genre, impacting on the characters. In this case, on a character, like my protagonist, Bruce, who, in some way, is convinced that the social status and the social status and the richness of the people who put it on the top and beyond the risks that this election has led by. And even if Eva doesn't agree with this idea, it's just from this point, that is the question that we can do, that Eva has at the beginning, that it takes a spin to the romance. Il romanzo ha un incipit folgorante, perché comincia con questa domanda. Vi andrebbe di chiedere a Siri come assassinare Trump? Domandò Eva Lindquist. Erano le 4 di un pomeriggio di novembre, il primo sabato dopo le elezioni presidenziali del 2016. Eva era seduta nella veranda della casa di campagna in Connecticut insieme al marito Bruce. Sono molto importanti in questa storia gli ambienti, le case, gli spazi domestici. Tanto è vero che c'è un epigrafe tratta da Oden, primo settembre 1939, che dice tutte le convenzioni cospirano perché questa fortezza assuma l'arredamento di casa. Allora volevo chiedere a David quanto davvero sono decisive in questa storia gli spazi in cui si muovono i protagonisti, perché questo tema è anche molto legato al titolo italiano e forse anche al titolo originale, di cui magari puoi dirci la differenza anche tra il titolo italiano e il titolo originale. Well, I always, when I started the novel, the novel went through many incarnations and many forms, but I always knew that one of the major characters was going to be an interior decorator. I am a great admirer of great interior decoration and beautiful homes. It's also something I have absolutely no talent for. I have no I. And I'm always interested in writing about people who can do things that I cannot. This is why I wrote The Indian Clerk, which was a novel about a mathematician, because I can't do math. I was also interested in the relationship between the decorator and the client, because if interior decoration is an art, is interior decorator an art or a trade? That was one of the questions that I was starting with. The way that the politics really came into it was that when the election happened, I think people clung to the idea of home or the idea of having a home, a place that was safe and safe, perhaps by virtue of being beautifully decorated. And suddenly, Eva, who has always relied on decoration in order to make her feel safe, no longer trusts that the place where she lives will remain safe. and so decides very spontaneously to buy an apartment in Venice so that she'll have a place to flee in the event that things get very bad. And I should add that if Trump is re-elected in November, I'll probably be leaving the country too. And so the title, both the English title and the Italian title, both, I think, speak to this idea of really what we can control and what we can't. And our houses, the places where we live, are things that we can control. Obviously, I'm not anywhere near as rich as Eva. I've never employed an interior decorator, but it is a fantasy, the idea that you could sort of say, okay, take my house and turn it into something beautiful where I can feel safe forever. And in that regard, I think I was probably on some mystic level anticipating the COVID crisis when it would become literally impossible to leave my house or very difficult to leave my house. When I started the romance, the romance has taken place in many ways, through various incarnations, various forms. One of the things that I have intrigued most is the decoration of the internes. non a caso, uno dei personaggi del romanzo important è un decoratore di interni. La scelta di questo tipo di personaggio, di questa professione svolta da questo personaggio, in qualche maniera rientra in un'abitudine che ho quando scrivo, cioè quella di parlare di figure che sanno svolgere bene cose che invece io non conosco per nulla o nelle quali io addirittura proprio sono negato. sono sempre stato intrigato dalle decorazioni di interni, ma non ne ho mai saputo nulla, anche perché non ho l'occhio per capire come si debbano fare certe cose. La stessa cosa un po' l'ho fatta quando ho scritto il romanzo di matematico indiano. Al suo centro c'è un personaggio che è un matematico e io assolutamente sono negato per la matematica, però questa cosa mi ha sempre intrigato. E mi ha intrigato in questa fattispecie il rapporto tra il decoratore d'interno e il cliente, nel senso che la domanda spontanea che sorge è ma si tratta di arte oppure di uno scambio commerciale? Ma dov'è che la politica si inserisce in questo tipo di discorso? Ebbene, quando ci sono state le elezioni del stato eletto Trump, molte persone si sono aggrappate all'idea della casa come unico ambiente sicuro, unico ambiente che li ponesse al riparo da quello che stava succedendo. E più era splendido l'ambiente nel quale le persone vivevano e più queste persone si sentivano in qualche maniera potette. Il personaggio principale di Eva da sempre è convinta della forza di questo assioma, cioè dell'idea che una bella casa arredata nella maniera più elegante, più ricca possibile sia l'ambiente più sicuro possibile. Però a un certo momento improvvisamente con l'elezione di Trump lei smette di avere questa sicurezza, di avere questa convinzione. al punto che decide quasi distinto di acquistare un appartamento a Venezia verso cui fuggire nel caso le cose si mettessero veramente male. Devo dire che a questo proposito se in novembre Trump dovesse essere rieletto anche io probabilmente fuggerei dal mio paese e non ci starei più, non ci abiterai più. Quanto al titolo, sia il titolo italiano che quello inglese si rifanno in maniera molto vicina, molto chiara ai concetti che stanno alla base del romanzo, della storia. E cioè soprattutto che cosa noi possiamo controllare e che cosa invece non siamo in grado di controllare. La casa in maniera quasi ancestrale per tutti è l'ambiente più controllabile possibile, quello in cui le persone si sentono più al sicuro possibile. sgombro il campo di ogni equivoco. Io non sono neanche lontanamente ricco quanto Eva e Bruce del mio libro. Certamente non ho mai avuto i soldi sufficienti per reclutare un decoratore di interno e gli svolgono un certo tipo di lavoro. Però l'idea di dare carta bianca a un decoratore di dire questa è la mia casa sconvolgila, trasformala per farne il posto più meraviglioso possibile e anche più sicuro possibile un posto nel quale io posso sentirmi al sicuro per il resto dei miei giorni è forte alla base del mio libro. In qualche maniera mi piace pensare che attraverso la bellezza delle parole e della letteratura io in qualche modo sia riuscito ad anticipare la crisi del virus del Covid-19 che ci ha costretti tutti in casa e per cui ci ha veramente messi di fronte all'unico ambiente sicuro in cui potessimo trovarci. Il titolo italiano appunto avete capito è Il decoro il titolo originale Shelter in place e c'è una frase a un certo punto di questo libro che dice se la forza dei nostri sentimenti fosse proporzionale agli eventi che li provocano il mondo non sarebbe il posto che è e quindi diciamo così è una riflessione anche sulla forza dei sentimenti che magari possono essere anche quelli di indignazione politica per esempio se bastasse quello allora il mondo sarebbe un posto migliore se bastasse la nostra indignazione ma credo che il romanzo di David Levitt sia un romanzo molto importante anche e soprattutto perché ci fa cogliere la difficoltà che hanno Bruce Eva e i loro amici a capire non solo Trump ovviamente ma anche e soprattutto chi lo ha votato cioè a capire gli altri allora volevo chiedere a David una riflessione su questo cioè su quanto in questo romanzo io credo sia importantissimo ci si mette poi a un certo punto in discussione perché ci sono momenti in questo romanzo in cui Eva e Bruce hanno la sensazione di non riuscire veramente a capire chi sono gli elettori di Trump eppure però devono cercare di capirlo I think I thought it was very important when writing the novel to have at least one character who was who had voted for Trump and so the character in the novel is a neighbor of Eva and Bruce's their next door neighbor in their apartment building in New York whose name is Alec and Alec and Bruce walk their dogs together and one of the biggest challenges for me was to try to get inside Alec's mind and try to understand why he voted for Trump a wealthy New York businessman a Republican who seemed to feel that who seems to feel that that very in those very early days of the election the way that he puts it is well yes he's 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 vulgar but he's our kind of vulgar he's New York vulgar I think a lot of people hoped and perhaps a lot of Republicans hoped that Trump himself would be a negligible figure in his administration and what they were really interested in was getting a Republican in the White House principally for financial reasons so that the tax code could be rewritten to benefit the wealthy I think they were those people were rather shocked at what they got instead and so a character like Alec would he vote will he vote for Trump in 2020 I would guess no but there's a whole other population of Trump supporters the ones who are were famously described as the basket of deplorables and these are people who really look to Trump as almost a religious leader or a cult leader and and I don't this is there is a limit to my ability to empathize as a writer I was always I was told when I was very young when I just started writing that I had a quote unquote genius for empathy well my my empathy runs out there's a point at which I cannot comprehend people who refuse to wear masks as a political statement or because they claim that to wear a mask is to is to interfere with their very American freedom the militarism the racism the 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 fear of 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 moving forward are are sort of beyond my comprehension and yet they're very frightening if I if I have hope it's that that population is steady and it's it's not enough to elect a president and my hope is that a lot of the people who voted for Trump who were not climbing out of the basket of deplorables will not vote for him this time round ma io quando ho scritto il romanzo ho pensato che fosse fondamentale cercare di capire qualche cosa su su chi aveva votato Trump ma soprattutto fondamentale avere un personaggio almeno un personaggio all'interno del romanzo che lo avesse votato e ho scelto questo personaggio nella figura di Alex che è il vicino di casa di Bruce e Eva ed è quello che va a portare a spasso il cane insieme a Bruce quando Bruce porta a spasso il suo cane la cosa difficile nel rappresentare questo personaggio è entrare nella sua testa e cercare di capire come un personaggio come lui avesse potuto decidere di votare per Trump e soprattutto che cosa lo avesse spinto a farlo un ricco uomo d'affari repubblicano new yorkese che pochi giorni dopo le elezioni di fronte alla domanda ma com'è che l'hai votato ma hai capito per chi hai votato dice sì vabbè Trump è una persona volgare ma è volgare come piace a noi come piace a noi new yorkesi e gente ricca e a questo punto ci sono sicuramente stati molti repubblicani che hanno votato Trump quasi sperando in qualche maniera che lui fallisse come nella sua amministrazione molti di quelli che l'hanno votato l'hanno votato per un motivo molto semplice gli stessi repubblicani lo hanno votato semplicemente per avere un uomo all'interno della Casa Bianca che trasformasse il sistema fiscale nuovamente a vantaggio delle classi più ambienti quindi di loro in qualche maniera e molti di questi si sono accorti invece con grande stupore e shock che le cose non stavano andando nel modo che avevano previsto e Alex è uno di quelli però c'è tutta un'altra francia della popolazione americana che ha votato Trump che è ben diversa da Alex e da chi come lui è abbiente e newyorkese è quella che qualcuno ha definito con un'immagine molto forte il cesto delle persone deplorevoli quelle figure che in qualche maniera hanno considerato Trump una sorta di leader religioso quasi ora io sono uno scrittore in quanto tale mi è sempre stato insegnato fin dall'inizio della mia carriera ad avere una certa empatia lo scrittore deve avere empatia ma da essere umano la mia empatia ha un limite e una volta che supero quel limite non riesco ad averne più la mia pazienza si esaurisce e per esempio si esaurisce nei confronti di persone come quelle che si rifiutano di indossare la maschera per proteggersi dal virus semplicemente facendone un gesto politico perché secondo loro dire indossare la maschera sarebbe una forte limitazione del diritto costituzionale alla libertà individuale previsto dalla costituzione americana quindi parliamo di un paese con una deriva sempre più razzista sempre più militarista sempre meno incline perlomeno in base alle idee di queste persone che hanno votato Trump a fare dei progressi ad avanzare sempre più preoccupante in maniera tale che addirittura proprio sfugge alla mia comprensione e devo dire che mi auguro che molti di questi personaggi certamente non quelli di questa di questa frangia quelli che io ho definito in precedenza il cesto delle figure deplorevoli si renda conto di quello che ha fatto prima magari proprio perché ha votato Trump non con quella convinzione nel 2020 alle prossime elezioni decida di non farlo e voti per qualcun altro speriamo prego prego c'è un applauso che arriva dai lettori di Salerno e un'ultima domanda riguarda la scrittura di questo di questo romanzo che è molto vivace è molto divertente anche come sempre sono i romanzi di David Levitt ed è molto ricco di dialoghi straordinari nel senso che è una sua cifra quella del dialogo della forza del dialogo visto che Levitt insegna anche scrittura creativa volevo chiedergli se dovesse spiegare a un allievo suo un po' come rendere efficace un dialogo se c'è non dico un segreto ma la prima cosa che direbbe ma soprattutto avendo scritto romanzi ambientati nel passato negli ultimi anni se invece c'è una differenza importante nel operare come narratori sul passato più o meno recente e su un tempo che invece è molto vicino a noi che non è il presente in senso stretto ma che sta appena alle spalle se c'è una differenza di posizione del narratore rispetto alla materia ok so i'll answer the two parts of the question one at a time when i teach usually at the first class meeting i ask the students how many of you find writing dialog easy and usually about half of them raise their hands and then i say how many of you find writing description easy and the other half raise their hands it's never very few people can do both i am a much more at ease writing dialog i don't like writing description and it's an ordeal for me and so i had been reading a number of writers whose work is principally dialog and most notably the british novelist ivy compton bernett and i was trying to learn and emulate her ability to move a story forward through dialogue so that the dialogue is not merely an opportunity for the characters to reflect on what's happening but what happens in the novel actually happens through the dialogue the dialogue has an active dramatic quality and in this regard i was also thinking a lot about some of my favorite playwrights who are the great geniuses at this kind of writing specifically noel coward and alan bennett two great british playwrights so that was how i came to the choice of the dialogue and now remind me what the other part of the question was i've had a prima traduciamo questa prima parte prima ascoltiamo la traduzione poi riprendiamo la seconda parte risponderò alla domanda in due in due tronconi quando insegno solitamente al primo incontro con i miei studenti chiedo quanti di loro abbiano una certa facilità a scrivere dialoghi e sostanzialmente metà della classe alza la mano poi chiedo quanti invece hanno una certa facilità a scrivere descrizioni e l'altra metà solitamente alza la mano sono pochissimi quelli che trovano agevole fare entrambe le cose io personalmente per esempio ho gravi difficoltà a fare descrizioni proprio non mi sento a mio agio mentre mi sento fortemente a mio agio con i dialoghi anche perché ho studiato grandi maestri nel campo una romanziera britannica bravissima nei dialoghi che non solo ci sa fare fortemente proprio nella struttura dei dialoghi ma che riesce attraverso i dialoghi a dare tutti gli elementi della storia che servono per raccontare la storia nel modo migliore e poi naturalmente ho preso spunto per imparare io stesso a scriverli questi dialoghi da come rappresentano i dialoghi alcuni grandi scrittori di spettacoli teatrali drammaturghi britannici mi riferisco a Noel Coward e Alan Bennett in particolare che hanno una maniera straordinaria di rappresentare i loro dialoghi e ricordami qual è l'altra domanda la seconda parte era il rapporto invece con una materia che viene dal passato come negli ultimi romanzi e invece qualcosa di più vicino high have given up on idea da es si ha es att a ici è And I actually believe the rate of change in world culture is faster than it used to be, that you can't count on such a thing as a present moment. I mean, right now in Florida, you know, we are having, we are at the absolute peak of the COVID crisis. Where will we be in a year? I have no idea. But I, so I feel as if I have to write about the present as if it were the past. And even if I'm only going back to 2017, I think we'll all agree, 2017 seems like 100 years ago. So I think a challenge that most writers now are facing is how to write about the present when during, say, the two years or the three years that it takes to write a book. And then the year between finishing the book and its publication, the present becomes very much the past. And the only solution is, is timestamp everything, which is, which is what I've, I've gotten in the habit of doing. Timestamp not only the moment in which the, the, the narrative takes place, the moment at which it is being written. Beh, ho smesso da tempo di pensare che esiste una cosa che si chiama presente. Il tempo, le cose cambiano con una velocità tale oggi. E io credo davvero che il tasso di cambiamento della cultura globale del mondo sia molto, molto più rapido di quanto non lo fosse una volta. che ormai non ha più senso scrivere pensando al presente. Vi faccio un esempio pratico. Pensate a quello che sta succedendo ora in Florida, dove siamo alle presi con il picco della crisi del virus Covid-19. La domanda che possiamo farci è dove saremo fra un anno? Cioè in quale condizione ci troveremo fra un anno? E la risposta è non ne ho la più pallida idea. Per cui credo che sia essenziale per uno scrittore oggi scrivere del presente come se fosse il passato. Se voi pensate a questo libro, questo mio romanzo è ambientato nel 2017, ma leggerlo oggi sembra che sia stato scritto cento anni fa, è diversissimo. Per cui è sempre più una sfida per gli scrittori scrivere del presente rendendosi conto che non solo il presente è già antico nel momento in cui lo scriviamo, ma che più o meno il periodo di scrittura di un romanzo è due anni, intorno ai due anni. Poi pensate a un altro anno per la pubblicazione, la promozione del libro, insomma quando il libro esce, il libro è già vecchio, non è già più presente. E io ho preso l'abitudine di non scrivere più come se fosse nel presente e di rappresentare tutto in maniera molto forte e contrassegnarlo in maniera cronologica. E' quello che faccio ormai abitualmente da qualche tempo a questa parte. Bene, grazie a David Leavitt di aver scritto Il decoro tradotto da Fabio Cremonesi per Sam e di essere stato anche se da lontano a Salerno, letteratura 2020. Grazie, posso salutare i miei amici Francesco e Filippo che vivono in uno dei più belli appartamenti in Italia e che sono lì al pubblico a Salerno. Grazie, bene, non lo salutiamo. Un grande abbraccio a tutti i due. Che ti salutano. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Ok. Arrivederci. Arrivederci. La prossima volta in persona. Eh sì, speriamo, veramente. Speriamo. Grazie. Ciao. Facciamo un cambio palco con la professoressa Emilia, grazie a Seba, Emilia Surmonte e il narratore francese che vi sto per introdurre, è già collegato con noi e lo ringraziamo anche lui, mi raccomando. Facciamo sentire che ci sono dei lettori in carne e ossa. e Pierre Lemaitre, grazie di essere a Salerno Letteratura 2020. C'è la professoressa Surmonte in tutto ciò? La recuperiamo? Cosa? L'abbiamo persa nel frattempo? Bene, allora due minuti di pazienza. Sta arrivando? Grazie. Intanto vi accenno, mentre arriverà la professoressa, che parliamo con Pierre Lemaitre di un libro appena uscito del suo ultimo romanzo, appena uscito per Mondadori, che si chiama Lo specchio delle nostre miserie e forse qualcuno tra voi ha avuto occasione di leggere i tasselli precedenti di questo grande affresco che sono Ci rivediamo lassù, che ha vinto appunto il premio Goncourt, e poi i colori dell'incendio. È una storia francese fatta in tre grandi tessere, c'è una forza narrativa straordinaria, in quest'ultimo blocco ci troviamo a Parigi nel 1940, quindi in un momento molto delicato e molto doloroso per la Francia, quello in cui appunto, come dire, l'invasore nazista mette piede in Francia e anche la Tour Eiffel sarà segnata dalla svastica nazista. E intorno a questo episodio, a questo momento della storia francese dei primi anni 40, Pierre Lemaitre costruisce un mondo narrativo impressionante, da un punto di vista anche proprio di quantità di storie che si intrecciano in questo ampio romanzo. e adesso però, se appunto non arriva la professoressa Surmonte, per me diventa un po' difficile andare avanti, ma immagino che si sia allontanata e adesso ecco la sta ritrovando il palco. Sì, credo che sia qua l'ingresso. Le stanno misurando la febbre comunque. Eccola, facciamo un applauso anche a lei, che adesso sale un po' in fretta sul nostro palco. Eccoci qua, grazie. Ecco, torniamo allora con Pierre Lemaitre, che è collegato con noi da Parigi, non so se da Parigi o da qualche altra località della Francia, e appunto ancora e di nuovo grazie per essere con noi a Salerno Letteratura 2020. Forse la prima domanda ha a che fare con la prima scena di questo romanzo. La prima questione riguarda la prima scena di questo romanzo. Che è una scena fortissima dove appunto un uomo chiede a un medico, che sarà uno dei personaggi di questa storia, chiede alla cameriera di un locale di spogliarsi per lui. E poi però scopriamo, questo posso dirlo, che lui, dopo aver assistito a questo spogliarello, diciamo così, si suicida. La domanda è se tra le tantissime visioni, scene di cui questo romanzo è pieno, di cui la sua scrittura è piena, c'è sempre all'origine di un romanzo una scena precisa e se è esattamente questa la scena da cui tutto è cominciato. Allora, c'è sempre nella romanzo una scena principale, una scena che va a determinare il romanzo, e vogliamo sapere se è proprio questa scena che prende il romanzo, il romanzo, o il comandamento. D'abord, buongiorno a tutti, grazie molto di me recevano e di voi interessate a mio lavoro. Grazie a tutti, grazie a tutti per interessarvi al mio lavoro. Monsieur le maestro, io vorrei fare una frase abbastanza corte per che io possa traduire per il pubblico, scusatevi. Allora, questa scena d'ouverture è, j'espère, effettivamente una scena assez forte. Questa scena, effettivamente, è una scena molto forte. Ma io considero il suicidio del medico come un premier rebondissement e a vostra place, non l'ho mai detto al lettore. Allora, considero questa scena come un primo salto e, scusatevi, puoi ripetere la dernière parte della vostra place? Io ne l'aurai pas dévoilé au lecteur. E al vostro posto non avrei spiegato nulla al lettore? Perché, in realtà, non si dà molto malo per che il romano comence su una sorpresa e una sorpresa che non è più una sorpresa quindi, rimaniamo su una sorpresa. Questo accade comunque nelle primissime pagine di un romanzo di 500 pagine. Comunque, vabbè, se lo dimenticherà. Io so, io comprendo molto bene che volevo dire ma ce l'ho cercato di esprimere è la difficoltà che abbiamo in una scena d'ouverture di creare un effetto che sia forte. Allora, la difficoltà capisco quello che volete dire ma la difficoltà che abbiamo come scrittori è proprio quella di avere una prima scena che sia di forte impatto. Allora, vous avez posé una question sull'origine del romanzo. L'origine del romanzo e l'origine della première scena ce n'è pas la même chose? Allora, mi avete fatto la domanda sull'origine del romanzo. L'origine del romanzo e l'origine della prima scena non sono la stessa cosa, non hanno lo stesso valore. En fait, una fois che io possiedo mon histoire, una fois che mon histoire est complète dans mon esprit, je cherche alors quelle est la meilleure maniè de commencer le romanzo. Allora, una volta che il romanzo è compiuto nella mia testa, che io ho tutto nella testa, allora cerco il miglior modo per poterlo iniziare e cominciare. e cette scena, cette première scena est importante parce que je considère que c'est le moment où se signe, en quelque sorte, un contrat entre un romancier et un lecteur. E questa scena per me è molto importante perché è quella che permette la firma di un contratto tra il lettore e l'autore. C'est dans ce romancier comme nous rivedons là-dessus et comme dans les couleurs de l'incendie les deux romans précédents une grande quantité de personnages et de histoires qui s'intreccient. Et c'est vraiment impressionant, c'est sûr, la capacité de Pierre Lemaître de tenir le fil d'un disegno très complexe de histoires qui s'intreccient. Dans certains de vos romans il y a plusieurs personnages et plusieurs histoires qui s'intreccient. Et c'est vraiment la capacité extraordinaire que vous avez de tenir ensemble tout cet ensemble justement de personnages et d'histoires croisés. Allora, mi veniva da chiedere si le cose che vediamo alle sue spalle o vedo degli appunti delle tessere delle fotografie delle immagini naturalmente non per chiederle di che cosa si tratta ma se lei ha bisogno per costruire un romanzo di avere un'idea complessiva della struttura che poi è un'evoluzione della domanda che le facevo perché davvero è incredibile come lui tiene insieme tutti i fili di questa storia allora sì 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 Dice che condurre un romanzo, guidare un romanzo è come guidare un aereo, un Boeing. Ci sono molti giri nella scrittura di un romanzo, un quadro che riguarda i personaggi, un altro che riguarda la cronologia, un altro che riguarda il fondamento storico, eccetera. Personaggi, cronologia, storia, tutto questo rappresenta ovviamente tutta una serie di elementi. Come il cervello dell'uomo sature molto rapidamente, se non ho la possibilità di mettere sull'amore e sull'amore i scenarii e le immagini dei miei personaggi, io sono in surcharge cognitiva e non comprendo più la mia storia. Se non avessi sulla mia scrivania tutti questi diversi scenari, sceneggiature dei diversi personaggi avrei ovviamente una difficoltà perché andrei in surmenage cognitivo. Siamo nella Francia degli anni 40 e questa è una parte di un lungo racconto, come dicevamo, che è partito con Ci rivediamo lassù, un bellissimo romanzo che aveva a che fare con gli anni della prima guerra mondiale. Si è disegnato quindi un affresco a tutti gli effetti di una lunga parte della storia di Francia. Allora, vous avez peinti una fresca di tutta l'histoire di Francia del XXe siècle, della prima parte, in commençant par la prima guerra mondiale e in arrivant justement al début della deuxième guerra mondiale. In qualche intervista, in qualche recensione, in qualche critica letteraria relativa a quest'ultimo romanzo o magari in una formula editoriale, si dice che questo, 1940, questi anni, sono gli anni in cui la Francia perde l'innocenza, forse l'Europa perde l'innocenza. Allora, in qualche critica letteraria che è adressata a vostro romanzo, si dice che questo, 1940, marca la perte dell'innocenza per la Francia. Non so se sia giusta questa espressione. E vorrei sapere se voi partagezate questa espressione, questa formula. Ma soprattutto vorrei legare a una delle citazioni che sono all'inizio del libro, una citazione di William McKivney, che dice che per qualsiasi avvenimento c'era sempre qualcuno a cui dare la colpa. Allora, il prende una de vosce citazioni al début del romanzo, per tutto l'evento, c'è sempre qualcuno su cui far tomber la faute. E allora volevo chiedere a Pierre Lemaitre che rapporto c'è, secondo lui, nella storia e nella sua storia tra la colpa e l'innocenza. Quel è il rapporto nella vostra storia tra la faute e l'innocenza? Allora, sono molto contento che un critico parli di l'innocenza perdita dei francesi, perché penso che l'espressione è molto giusta. Allora, io sono molto contento che la critica abbia parlato della perdita dell'innocenza in Francia a quest'epoca, a 1940, perché trovo che si tratti di qualcosa di veramente giusto. E se gli effetti di questa perdita dell'innocenza, noi continuiamo a viverli e a scoprirli ancora, continuamente. Bisogna capire bene che cosa succede nel 1940. Nel giro di un anno il governo ha proceduto a una propaganda assolutamente inaudita. La propaganda diceva che l'armata, l'esercito francese, è quasi quasi, non ho capito. È stata inaudita. Era molto sensibile. E per circa un anno e mezzo il popolo francese ha sentito questa propaganda e ci ha creduto. Allora, si diceva che erano state prese tutte le precauzioni per impedire alla Germania di invadere la Francia. Or, non solo questa guerra non si è svolta come si era previsto, ma in più, è durata circa un mese, anzi meno di un mese. E questa disfatta così rapida e fulgurante è stata accompagnata dall'esodo di circa 12 milioni di persone. La disfatta è stata non solo improvvisa, ma anche estremamente umiliante. Ecco perché io trovo giusta questa espressione di innocenza perduta. Io vedo come data proprio questo 1940 il divorzio tra il popolo e le élite che lo governano. Oggi questo divorzio è veramente estremamente evidente, grida possiamo dire, e eccratante. E io penso che la grande difetta del 1940 è in qualche sorta il punto di partenza di questo divorzio che va a prendere diversi decenni e che noi conosciamo oggi i effetti terribili. E il 1940 è proprio l'inizio di questo divorzio, prima ha detto una cosa, ha detto che ha avuto delle conseguenze inquietanti e queste conseguenze oggi sono assolutamente evidenti. E infatti avevamo scelto di intitolare questo incontro, come ricordavo prima, domande dal presente, domande dal passato. Perché queste domande si intrecciano, si incontrano nel romanzo di Lemaitre e ci danno la sensazione che quella umiliazione appunto, quella mortificazione di un popolo sia qualcosa che non è appunto cancellata, è ancora forse in qualche modo attiva nel presente, può esserlo. E allora, perché queste domande devono arrivare a posare la domande del fatto che l'umiliazione di questa difetta sia ancora vivante e ci interroge ancora oggi? Allora, questa difetta non è molto vivante nella memoria dei francesi. Questa disfatta non è oggi viva nella memoria dei francesi. Allora, io sono stato sorpreso facendo le mie ricerche di vedere che questo esodo non è stato molto trattato né dal cinema né dai romanzi successivi. La ragazza è molto semplice, è che la seconda guerra mondiale ha provoqué dei eventi ancora più traumatici, l'olocausto, l'occupazione, la resistenza, la collaborazione. Allora, questo dipende dal fatto che poi la seconda guerra mondiale ha provocato avvenimenti ancora più importanti come l'olocausto, l'occupazione della Francia, il collaborazionismo e la resistenza. Allora, questo esodo è stato ricacciato indietro anche perché non si insegnano più queste cose al liceo, quindi a scuola. E quindi, giusto per termine su questa questione, al fondo noi abbiamo, con questo esodo del 1940, una sorta di traccia invisibile di quello che è un male visibile oggi. Sì, credo questo e sono ovviamente d'accordo con l'autore perché ho la sensazione che questo possa valere anche per alcune vicende italiane, cioè che ci sia, come dire, una traccia invisibile di qualcosa. Il è d'accordo con voi e il dice che, effettivamente, il pensa che, anche in Italia, ci sia delle tracce invisibili di cui le conseguenze sono ben presenti oggi. E l'ultima domanda che volevo fare a Pierre Lemaitre è rispetto alla scelta che ha fatto dopo aver attraversato con la sua carriera tante possibilità del romanzo, dal noir ad altre opzioni, diciamo così, narrative, di essere arrivato con questi tre grandi romanzi a un'idea, come lui stesso ha detto, di romanzo popolare. E mi piacerebbe capire su quell'aggettivo che cosa si può dire. Allora, il dice che, diciamo, in vostra carriera, avete avuto diverse forme di romanzo, soprattutto il noir e d'autres, ma con questi tre ultimi romanzi, avete effettivamente realizzato un romanzo che avete definito popolare. E c'è bene l'aggettivo popolare su cui il vorrebbe interrogera per sapere cosa che pensate e cosa sentite per lì? Allora, c'è una domanda passionante, anche se molto imbarazzante, o forse per questo molto imbarazzante fa. Perché tutto il mondo parla della letteratura popolare, ma è molto difficile da definire. Molti o tutti parlano della letteratura popolare, ma è molto difficile da definire. Allora, non voglio rifugire la domanda che mi viene posta dal Festival di Salerno e cercherò comunque di rispondere. Allora, io vi direi che ce che ch'appelle la letteratura popolare, c'è una letteratura che può plaire a tutto il mondo, ma non per le stesse ragioni. Si può dire che la letteratura popolare è una letteratura che può piacere a tutti, ma non per le stesse ragioni. Prendo uno dei miei libri ad esempio, perché è l'esempio che conosco meglio, il caso che conosco meglio. Allora, in uno dei miei libri della trilogia c'è un giovane che può essere un ragazzo che può essere interessato soltanto da uno dei personaggi. Quindi, in realtà, un giovane lettore può interessarsi soltanto da una parte, ovviamente, di quello che sono le cose dette dai personaggi. Quindi, a questo tipo di lettore, di romano d'aventura, può avere un'altra sfera di lettore che va s'interessare a altre cose. E in questa ci può essere poi qualcun altro, un altro tipo di lettore che si interessa invece ad altri elementi. Par esempio, certi lettori si interessano al fondo sociale, al fondo politico, al fondo istorico e alla risonanza che il romano ha su la vita di oggi. Allora, qualcun altro può interessarsi al fondo sociale, politico, perché impatta meglio con quella che è la sua vita. M. Lemaitre, scusate, mi scuso un pochino, non riesco sempre a sentire esattamente quello che dice Pierre Lemaitre, quindi mi scuserete per alcune imprecisioni di traduzione. Spero di rendere per lo meno il senso profondo delle cose. Io mi scusate, M. Lemaitre, io mi scusate con il pubblico, perché a volte non riesco a capire con la distanza ciò che dice. Io comprendo. Io cerco di fare molto semplice e ho l'impressione, per quanto riguarda l'italiano, che la tua traduzione è molto buona. Grazie, è molto gentile. Questo non ve lo traduisce. Allora, in realtà, ce che explico è che per me i diversi lettori sono come dei cerchi concentrici. I diversi tipi di lettori sono come cerchi concentrici. Il primo cerchio è quello che s'interessa unicamente ai personaggi. Il primo cerchio è quello che s'interessa ai personaggi, unicamente. Il secondo cerchio è quello che s'interessa al significato politico di quello che sto raccontando. Il terzo cerchio può essere dei lettori che possono riconoscere in un capitale una parodia di una pagina di Marcel Proust. E poi c'è un terzo tipo di lettori che cerca, invece, in quello che io ho scritto, una specie di parodia dei libri di Marcel Proust, che è un antistema di radio francese. Ce che è importante per che sia una letteratura veramente popolare, è che nessuno di questi lettori esclude gli altri. E bisogna che tutti questi lettori possano coabitare nel stesso libro. Tutti questi tipi di lettori possono coabitare nello stesso libro. On può dire che il romanzo popolare è una grande maison dove c'è della place per tutto il mondo. Il romanzo popolare è una grande casa dove c'è posto per tutti. Grazie a Pierre Lemaitre di essere stato, anche se da lontano, a Salerno Letteratura 2020. L'applauso del pubblico qui presente a Salerno, Pierre Lemaitre, autore, tra l'altro, di Lo specchio delle nostre miserie, pubblicato da Mondadori. E grazie per averci aiutato, a Emilia Surmonte. Grazie mille. Grazie a voi, M. Lemaitre, excusez-moi per le petit... Non, c'était très bien, c'était parfait, c'était parfait. Merci a tous. Grazie a tutti. Buon festival, buon festival, buon festival a tous. Grazie Paolo, grazie al pubblico e chiedo scusa perché non sempre è facile capire. Il pubblico, come sapete, non ha il biglietto per il prossimo evento, che è quello di Roberto Mercadini, deve lasciare lo spazio.